ciao ciao ben ritrovati anche questa mattina le chicche formative morirete arrugginiti a furia di piangervi addosso è la domanda di oggi perché perché vedo purtroppo alcuni consulenti che piuttosto che prendere in mano la situazione e dare una svolta a quella che è la propria carriera proprio lavoro il proprio portafoglio preferiscono continuare a piangersi addosso ma il mercato non aiuta ma sono in una zona particolare e ma i clienti grandi non sono più difficili da intercettare però non mi hanno dato le riassegnazioni e ma io non sono nella manica del manager e ma sono stato sfortunato e ma nel frattempo fatto altro e che palle scusate ragazzi forza cioè alla fine questi li troviamo arrugginiti perché ha continuato a piangersi addosso siccome non sono fatti di acciaio inossidabile ma sono infatti dei ferro come dire li troveremo arrugginiti allora prima di arrugginire ci si potrebbe tentare no di fare qualcosa sì si potrebbe però tendenzialmente chi preferisce piangersi addosso ce l'ha proprio nel dna quindi è uno schema comportamentale quello del piangersi addosso e di non assumersi la responsabilità delle proprie dei propri risultati ok perché i risultati non sono altro che il risultato di azioni che noi abbiamo compiuto o non compiuto ok quindi cambio le azioni cambia il risultato cambio il pensiero cambiano le azioni cambiano i risultati quindi a retrocedendo bisogna andare sulla forma pensiero la forma pensiero è quella che poi modifica tutto l'andamento quindi la chicca di oggi è modificate il pensiero se non morirete arrugginiti ciao ciao a tutti